La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta Onlus, unità territoriale di Milena, la cui responsabile è la volontaria Giuseppa Tona, continua a promuovere iniziative di solidarietà nei confronti delle persone anziane che vivono da sole nel paese. Dopo gli incontri in occasione del Carnevale, della Festa della Donna e della Festa di San Giuseppe, la prossima iniziativa si terrà durante le festività di Pasqua per lo scambio degli auguri. La solidarietà milocchese a favore della comunità locale, offerta dall'impegno profuso dai volontari del gruppo della Croce Rossa Italiana, si legge nella nota, è divenuto un appuntamento fisso e importante per la grande attenzione che mostra nei confronti delle persone sole del paese.